Augusta sorpreso dai poliziotti in giro per le vie della città ha denunciato 35 anni. Nella giornata di ieri agente del commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 35 anni per il reato di evasione. Lo stesso è stato sorpreso dai poliziotti in giro per le vie della città nonostante si trovasse agli arresti domiciliari e considerato che non era in possesso di alcuna autorizzazione o permesso è stato denunciato in stato di libertà per il reato di evasione.